Silvio, una nuova esperienza dopo Cervinara, Forza e Coraggio, come ti trovi e soprattutto come stanno andando le cose in campagna acquisti? Allora, buonasera, sono contento dell'approvato alla Forza e Coraggio, mi sono trovato subito bene ad agio con la società, ho trovato persone squisite su tutti i punti di vista, il presidente già conoscevo, anche la dirigenza. La campagna acquisti è andata bene, a parte che la rosa già era formata al 90%, mancava qualche pedina che è andata via nel reparto offensivo al centrocampo e siamo andati a colmare quel vuoto che si era formato. La rosa è chiusa, lunedì partiamo per la preparazione, siamo contenti di tutto ciò. Il girone vediamo, non si sa, si parla del girone B del Serenità navellinese, però attendiamo che escono i gironi ufficiali per capire dove siamo, chi affrontiamo. Senti Silvio, l'Epre è stato l'ultimo acquisto in ordine di tempo, l'Epre e Turtra formano un attacco che in eccellenza sicuramente è da temere. Avete la partenza di Befi, sicuramente è stata colmata nel modo migliore. Sì, a me è dispiaciuto della partenza di Alessio, però nel calcio sono tante situazioni. L'Epre abbiamo fatto un ottimo acquisto, è un giovane importante di categoria, quest'anno ha vinto i playoff con la San Giovannese in Toscana, è uno che ha fatto il più di 100 gol in eccellenza, sperando che si confermi qui con Pippo che è un giocatore affermato, non servono presentazioni, sperando che si confermi quello che ci aspettiamo, una coppia scoppiattante. Senti, spostando il discorso sul campionato di promozione, come non fare una domanda sulla tua ex squadra, sul tuo paese che è Cervinara, proprio di stamattina è la voce dei primi due acquisti tonanti di questa squadra, due acquisti che sicuramente andranno a far gioire i tifosi del CIVA. Uno viene proprio dalla Forza e Coraggio ed è mandato, l'altro è Stellato che conosciamo tutti come giocatore di categoria superiore. Questi due acquisti sicuramente, oltre a tanti altri che verranno, perché il Presidente l'ha detto a carattere cubitale, il Cervinara sarà da vertici, portano ad essere il Cervinara una delle squadre protagoniste? Sì, io me lo auguro, sono un tifoso del Cervinara e sono legato dal Cervinara. A me fa solo piacere se il Cervinara allestisce una squadra importante, perché questa piazza lo merita. Ha mandato un giocatore lo stesso Stellato. Spero che quest'anno sia la volta buona per fare il salto di categoria. Il Presidente è rimasto in un ottimo rapporto con la società e con i tifosi. Spero che i progetti vadano avanti, facciano in bocca al lupo a tutta la società, ai giocatori, a Mr. Puzio e a tutti i tifosi del Cervinara. Chiudiamo con una domanda sul girone del Cervinara. Molto probabilmente sarà il girone avellinese Sannita, un girone molto particolare che, a detta di tutti, dovrebbe essere più forte di quello dell'anno scorso. Il tuo parere? Sì, sarà un bel girone. C'è il Montesacchio, penso sia la favorita, guardando la campagna acquisti. Poi adesso faccio in bocca al lupo al Mr. Savio Casale, che è andato alla grotta. Penso sia un bel campionato, un campionato interessante. Ci sono molte squadre attrezzate. Io spero che il Cervinara arrivi davanti a tutti. Me lo auguro questo.